5.917 preferenze per l'ex sindaco di centrosinistra Pasquale Chieco contro i 5.109 voti dallo sfidante di centrodestra Luciano Lorusso. E' il risultato finale che porta al ballottaggio il comune di Ruvo di Puglia il 44,38% contro il 38,32% per i due contendenti che tra 15 giorni saranno in sfida per il nuovo primo cittadino ruvese. In entrambi i casi comunque le liste hanno superato i numeri conseguiti dai due sindaci. Il centrosinistra è al 46,35% con il partito democratico primo in città e quasi al 20% delle preferenze. Per il centrodestra invece è sfiorato il 40% dei voti di lista con Fratelli d'Italia primo partito della coalizione attorno al 12%. Completano il quadro degli sfidanti Biagio Mastrorilli con due liste al seguito poco oltre le mille preferenze l'8% dei voti complessivi. Santi Zizzo con tre liste fermatosi al 4,85% e infine Domenico Berardi con ruvesi per ruvo al 4,36% con 581 voti. Un ballottaggio che per il sindaco uscente Pasquale Chieco era già nell'aria. Un ballottaggio che in qualche modo era nell'aria, era prevedibile in quanto appunto in particolare abbiamo avuto altri tre candidati sindaci che hanno concorso in questa giornata elettorale, due dei quali dichiaratamente gravitanti nel campo del centrosinistra. Quindi anche c'è questo dato che ci porta a un ballottaggio con quelle caratteristiche che sono state indicate all'inizio. Di buon risultato ha parlato Luciano Lorusso che punta a portare il centrodestra alla guida della città. Il candidato ha parlato anche della minore affluenza alle urne nella città di Ruvo. Rispetto alle scorse amministrative avevamo tre candidati sindaco in meno rispetto quindi al 2016 e inoltre i candidati consiglieri erano il doppio per cui un numero inferiore di candidati consiglieri muove sicuramente in una cittadina meno votanti. Però non c'è anche da tener conto della disaffezione della gente verso la politica, questo è un dato incontrovertibile.